Ciao carissimi amici di Shablik Sapuri, vi facciamo tanti auguri e felicitazioni per questo ventennio, questi vent'anni di lavoro che avete fatto, che coincidono anche con i vent'anni di amicizia più o meno tra di noi. Bellissimo, siete una realtà splendida, bella che mi entusiasma solo al pensarsi, grazie mille di esistere, continuate a tenere duro, bravi, ciao, baci baci.